Ammonteranno a 2 milioni e 800 mila euro i prossimi finanziamenti che la Giunta regionale metterà a disposizione nella seduta di venerdì 30 dicembre per i territori della provincia di Imperia e di Savona colpiti dal maltempo dello scorso 24 e 25 novembre. Lo ha comunicato oggi l'assessore regionale alle infrastrutture e alla protezione civile Giacomo Giampedrone nel corso di un sopralluogo effettuato sulle zone dell'entroterra savonese colpite dal maltempo insieme al consigliere regionale Angelo Vaccarezza e ad alcuni sindaci del territorio. Dopo il riconoscimento dello stato di emergenza da parte del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile con il quale sono stati stanziati 11 milioni di euro, la Giunta regionale si è impegnata a stanziare immediatamente 3 milioni e 36 mila euro attraverso le accise 2016 per intervenire sulle zone del ponente ligure e oggi l'assessore Giampedrone ha così preannunciato lo stanziamento di ulteriori 2,8 milioni che andranno a ripristinare condizioni di normalità e ad intervenire nel campo delle infrastrutture, della viabilità e della difesa del suolo. Domani verrà effettuata una riunione tecnica in regione per decidere i singoli interventi da finanziare sulla base del sopralluogo effettuato e delle effettive priorità. Si tratta di risorse che avranno un'immediatezza di erogazione che consentirà ai sindaci di affrontare subito le emergenze.